La testa di prima per Javi Martinez, siamo scoperti, Javi Martinez attaccano un 4-4 contro 3, adesso 4 contro 4, Martinez, Jesus Navas, è finito anche il secondo supplementare, Navas, non adesso, non adesso, non adesso, non riesce alla mediazione, deve fischiare Webb, deve fischiare Mata, è già finito il secondo supplementare, Mata la mette in aria, il colpo di testa, il pallone che non esce, perché non fischia l'abito, perché Mata, Mata, altro cross Non esce Buffon, ci arriva Chiellini, poi Giaccherini, non riesce a rinviare, lo fa in un secondo tempo, dovremmo aver conquistato i rigori, e così è, non fischia Webb, 15 minuti, 35 secondi, secondo me non ha dato un'occhiata al cronometro, l'arbitro non ci sono stati interruzioni, avrebbe dovuto già fischiare L'ha guardato ora il cronometro, l'ha guardato ora, lo fa giocare Ma deve fischiare, deve fischiare Webb, Busquets, i fischi arrivano, sono 70 mila, 50 mila fischi, Chiellini, Chiellini, Diego Aderossi, la cosa aspetta Sergio Ramos, superato, adesso tutta la macchina in piedi, tutta la macchina in piedi a chiedere il fischio finale, adesso arriva il fischio Grazie a tutti